parliamo di un libro di racconti di un grande anzi grandissimo scrittore ovvero hermanesse i racconti di hermanesse hermanesse è uno scrittore originario della germania nato nel 1877 e che nel corso della sua vita si è spostato poi in svizzera dove ha passato gran parte della propria esistenza e dove è morto nel 1962 ha avuto sempre delle posizioni molto portate per lo spiritualismo e per e per l'esotismo non a caso nei libri della sua produzione più matura ha parlato anche di argomenti che avevano a che fare con l'estremo oriente come nel suo libro probabilmente più famoso che è siddhartha in cui praticamente narra in sole poco più di 100 pagine l'esperienza del buddha è un libro probabilmente il suo libro più famoso ed è un libro molto generazionale nel senso che è sempre stato letto dalle generazioni dei giovani ha anche scritto il gioco delle perle di vetro e in questi racconti c'è un un'ottima scelta della sua produzione diciamo più variegata ci sono sia racconti abbastanza strani che racconti decisamente realistici e alcuni autobiografici come quello che leggeremo per scoprire appunto questo libro che è il primo della seconda metà curiosamente questo libro nell'edizione mondatori è diviso in due parti i suoi libri di racconti nell'edizione originale in tedesco sono quattro libri quindi sono parecchi di più e in queste due parti ci sono prima i racconti più maturi e poi racconti più giovanili questo qui è uno dei primi racconti di hermanesse e risale al 1900 quando lui aveva solo 23 anni non a caso scrive scrive di un'esperienza di un'esperienza giovanile questo grandissimo autore tra parentesi nel 1946 inizia anche il no per quella letteratura probabilmente vista l'esperienza della seconda guerra mondiale che era appena finita anche perché era un convinto pacifista e uno che sarà sempre discostato dalle idee del terzo reich comunque passiamo a questo bellissimo raccontino che si intitola sul ghiaccio scritto ovviamente in prima persona perché autobiografico in quel tempo vedeva ancora il mondo con altri occhi avevo 12 anni che è l'età di solito della della classe a cui lo propongo e mezzo ed era ancora completamente preso nel mondo colorato del rigoglioso delle gioie e fantasticherie fanciulleschi fu allora che nel mio animo stupito spuntò per la prima volta timido e avido il tenue chiarore della giovinezza più dolce e tenera era un inverno lungo rigido e il nostro bel fiume della foresta nera si cerò per settimane immaginate un fiume la foresta nera è per l'appunto il suo villaggio era era in questo bellissimo scenario naturale della foresta nera un fiume che durante un inverno freddissimo si congera si ghiaccia e quindi diventa pattinabile non posso dimenticare la sensazione strana di paura e estasi insieme che mi colse quando nel primo mattino di cielo mi avventurai nel fiume era profondo e il ghiaccio era così trasparente che si poteva vedere sotto di sé come attraverso un velo sottile l'acqua verde il fondo di sabbia e ciottoli gli intrecci fantastici delle piante acquatiche e di tanto in tanto il dorso scuro di un pesce passavo pomeriggi interi sul ghiaccio con i miei compagni le guance accaldate le mani gloastre il colore intugidito dai movimenti vigorosi e ritmati del pattinaggio colmo della meravigliosa e spensierata capacità di godimento della facciamidezza ci esercitavamo nella corsa nel salto in lungo nel salto in alto giocavamo a chiapparci e quelli che ancora portavano legati agli stivali gli antiquati pattini di osso non correvano affatto peggio degli altri uno di noi tuttavia il figlio di un industriale aveva un paio di alifax che erano fissati alla scarpa senza legacce e cinche e si potevano mettere e togliere in pochi attimi da allora la parola alifax comparve per anni sulla lista dei regali che desideravo per natale ma inutilmente e quando 12 anni più tardi quindi quando ce n'aveva quasi 25 volendo acquistare un paio di pattini veramente buoni chiesi se in un negozio avessero gli alifax con mio grande dolore vi ricordare un ideale e una certezza fanciudesca quando mi senti assicurare con un sorriso che alifax era un sistema antiquato da tempo superato quindi aveva un mito inconsistente di preferenza pattinavo da solo spesso fino all'imbrunire correvo via veloce imparava a fermarmi a voltare a qualsiasi velocità in qualsiasi punto mi ripravo in ampie volute in equilibrio su una gamba con la sensazione di volare molti dei miei compagni utilizzavano i pomeriggi su ghiaccio per correre dietro alle ragazze e corteggiarle per me le ragazze non esisteva è ancora nella fase in cui insomma le ragazze non sono interessanti mentre altri compivano azioni cavalleresche giravano intorno a esse desiderosi e timidi oppure audaci e disinvolti le invitavano a pattinare in coppia io gustavo solo il piacere incontrastato del vizzare via per quelli che conducevano le ragazzine non provavo che pena o schermi quindi lui li prende in giro o gli fanno pena dalle confessioni di alcuni amici credevo infatti di sapere quanti loro piaceri calanti fossero in fondo relativi un giorno mentre l'inverno ci avvolgeva alla fine mi giunse notizia di una sovietà di una novità scusate nel nostro ambiente di scuola il nordista che sarebbe praticamente uno che proviene ovviamente dal nord della germania perché la foresta nera è abbastanza a sud recentemente aveva di nuovo baciato emma meier mentre si toglievano i pattini improvviso la notizia mi fece montare il sangue alla testa baciato era ben altra cosa rispetto riscorsi scipiti alle timide strette di mano che di solito venivano esaltati come le massime delizie del pattinare a coppia baciato era un suono che proveniva da un mondo estraneo celato immaginato con timore aveva il profumo invitante del tutto proibito aveva un che di segreto poetico innominabile faceva parte di quell'ambito dolce e oscuro porosamente affascinante da noi tutti passato sotto silenzio ma tuttavia presagito illuminato a tratti dalle mitiche avventure amorose dei donnaioli che erano stati espulsi dalla scuola il nordista era uno scolaro quattordicenne di hamburgo capitato dio sa come tra noi che io ammiravo e la cui fama che tu sperava lontano dalla scuola spesso non mi faceva dormire e emma meier era certo la ragazza più carina di gerbe saul paese d'origine di ermanesse bionda acile fiera e della mia stessa età quindi il tizio più scavezza collo e un po straniero di questo viellaggio nella foresta nera ha baciato la più la ragazza più carina di tutto il villaggio quindi una cosa che non si può che invidiare a partire da quel giorno cominciare a rimucinare progetti e problemi baciare una ragazza superava di gran lunga tutti i miei precedenti ideali sia come cosa in sé e sia perché senza dubbio era rietato interdetto dalle regole della scuola mi resi presto conto che il solenne servizio amoroso della pista ghiacciata era l'unica buona occasione per farlo quindi l'unica possibilità è invitarla a pattinare e approfittare di questa attività sportiva per darsi a escursioni più galanti con Emma Maier per prima cosa cercai quindi per quanto possibile di rendere il mio aspetto più acconcio accorteggiamento dedicai tempo e cura ai miei capelli controllai minuziosamente la pulizia dei miei vestiti mi calcai con garbo e berretto di pelo sulla fronte chissà come sarà carino col berretto di pelo sulla fronte e pregai a miei sorelle di darmi il loro fular di seta rossa un tocco di esotismo per essere più carino insomma inizia a curare di più la propria immagine la propria igiene inizia a tenere più a se stesso perché deve attirare una ragazza e lo stesso tempo sul ghiaccio cominciai a salutare cortesemente le ragazze che potevano essere prese in considerazione e credetti di vedere che quella moggia in solido veniva notato con sorpresa ma non senza piacere insomma essere galanti funziona molto più difficile fu il primo approccio perché in vita mia non avevo mai tra virgolette invitata al ballo una ragazza cercai di spiare i miei amici mentre seguivano che sorenne cerimoniale alcuni si limitavano a fare un inchino a porgere la mano altri parbettavano qualcosa di incomprensibile in più si servivano dell'elegante formula posso avere l'onore questa formula mi impressionò molto e mi esercitai a casa in camera mia facendo l'inchino davanti alla stufa e pronunciando le parole solenne io mi sono innamorato di questo racconto la prima volta che l'ho lessi davanti a questa immagine di un ragazzino di circa 13 anni che si inginocchia davanti alla stufa per imparare a chiedere di uscire di ballare di pattinare a una ragazza l'ho trovata estremamente carina irresistibile era giunto il giorno del primo difficile passo cioè il giorno precedente avevo avuto intenzione di iniziare il corteggiamento ma ero tornato a casa scoraggiato senza avere osato niente quel giorno mi ero prefisso di fare immancabilmente ciò che temevo insieme desideravo con il batticuore angosciata a morte come un criminale andai verso la pista di ghiaccio credo mi tremassero le mani mentre mi mettevo i pattini perché è il grande giorno deve finalmente fare la prima mossa con questa ragazza che per lui è bellissima e raggiungibile poi mi accettai nella mistica con ampi movimenti circolari cercando di mantenere un po' della mia abituale espressione di sicurezza e naturalezza percorsi due volte la pista in tutta la sua lunghezza al massimo della velocità e l'aria frizzante movimenti rigorosi mi fecero bene si scioglie no inizia a fare dei giri di prova per essere sciolto d'improvviso proprio sotto il ponte mi scontra in pieno con qualcuno e barco là per qualche passo sgomento urta qualcuno su ghiaccio era seduta la bella è pensate la sfiga ha beccato in pieno proprio la tipa che voleva invitare a pattinare e mi guardava a viena di rimprovero scusate che evidentemente cercava di reprimere il dolore emma e mi guardava a viena di rimprovero perché l'ha buttata in terra con violenza il mondo davanti ai miei occhi girava vorticosamente aiutatemi a tirarmi su disse alle sue amiche allora con il viso in fiamme mi torsi il berretto mi ginocchiai accanto a lei e l'aiutai a rialzarsi è rosso come un peperone ma fa la cosa giusta si toglie il berretto si inginocchia la tira su rimanemmo uno di fronte all'altra in cui lui deve sbalardire nessuno di noi parlò la pelliccia i capelli e il volto della bella ragazza così estranei e vicini mi stordivano pensai in vano a un modo per scusarmi ancora con il berretto stretto in mano scena abbastanza burpa ed improvviso mentre un velo mi oppuscava la vista quasi non ci vede più fece meccanicamente un profondo inchino e barbettai posso avere l'onore tutto l'allenamento con la stufa qui è venuto fuori insomma ha fatto il gesto meccanicamente quello giusto nel momento giusto lei non rispose però prese le mie mani tra le sue dita sottili e il cui colore riuscì a sentire attraverso i guanti bellissima immagine e si avviò con me mi pareva ad essere uno strano sogno una sensazione di felicità vergogna calore desiderio e imbarazzo quasi mi toglieva il fiato pattinammo per un buon quarto d'ora poi in una piazzola liberò piano le piccole mani disse grazie tante e proseguì da sola mentre io mi toglievo troppo tardi per retto di perirci e rimanevo lì per un po' in modo alla fine un po' la figura da stoccafisso la fa però la fa proprio alla fine solo più tardi mi resi conto che per tutto quel tempo ben 15 minuti 15 minuti sono veramente una vita sono praticamente 900 secondi 900 lunghissimi secondi non aveva detto una sola parola il ghiaccio si sciolse e io non potevi ripetere il mio tentativo fu la mia prima avventura amorosa tuttavia passarono ancora diversi anni prima che il mio sogno si avverasse e la mia bocca potesse sfiorare una rossa bocca di fanciuta ed è un bel finale perché ci fa vedere che la vita continua ma questo suo sogno di baciare qualcuna si compirà soltanto tanto tempo dopo ma abbiamo assistito al momento in cui lui ha trovato coraggio per chiedere a qualcuna che per lui è bella e raggiungibile di uscire con lui ed è un momento bellissimo ma forse in un certo senso è lo spartiacque tra quando uno è bambino e quando uno è adolescente mi piace Grazie.